Il più cordiale saluto da ETG Edizione Marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV Canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it. In apertura di questa edizione un'ampia pagina di cronaca partiamo da un appello che viene dai Monti Sibillini. Salvate i nostri animali 300 capi di bestiame senza acqua nel maceratese sotto il sole coccente soprattutto in questi ultimi giorni più di 300 capi di bestiame tra mucche vitelli e cavalli sono senza acqua se non si interviene subito finiranno male a dirlo è Laura Sabatini giovane allevatrice di Macereto di Visso in provincia di Macerata che parla anche a nome di altri tre allevatori della zona. Come ogni estate noi che lavoriamo qui sull'alto piano siamo alle prese col problema dell'acqua racconta la giovane un problema acuito anche dalle altissime temperature di questi giorni anche se pare che il caldo il grande caldo possa concedere una leggera tregua nelle prossime ore. Caronte che allenta la morsa torneranno i temporali nei prossimi giorni. Restiamo sulla cronaca, restiamo sul nostro sito e tvmarche.it. A Macerata molesta e insegue una madre e una figlia lungo il corso centralissimo denunciato un 47enne. La scorsa settimana una volante è intervenuta in un esercizio commerciale di piazza Nazario Sauro perché le due donne avevano trovato rifugio proprio in questo negozio all'interno. Due donne erano state segnalate dopo che lungo corso Cairoli un uomo completamente ubriaco aveva prima molestato verbalmente le due donne pronunciando frasi volgari e disconnesse poi non contento le aveva addirittura inseguite. È intervenuta prontamente la polizia di Macerata. Voltiamo pagina, parliamo di post alluvione attesa ieri per la visita del commissario Figliuolo. Ecco 4 milioni per 7 comuni. Sentiamo anche le ultime novità. Sono affluite adesso le prime risorse per far fronte agli interventi di sommorgenza e così come ho detto questa mattina a Forlì sostanzialmente la struttura ha come obiettivo principale in questo momento anche sull'indicazione del Presidente Onorevole Giorgia Meloni di affrontare da subito quella che è la messa in sicurezza del territorio, della viabilità e quindi continueremo con le attività in sommorgenza che verranno interamente coperte e i comuni saranno ristorati. La notizia del giorno e lo si è preso a margine della visita nelle Marche del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'alluvione del maggio 2023, è la trasmissione alla Protezione Civile Nazionale del Piano per le Somme Urgenze da attuare nei 7 comuni del Pesarese inseriti nello stato di emergenza. In arrivo 4 milioni da ripartire tra Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Monte Labate, Pesaro, Sasso, Corvaro e Urbino. Figliuolo che tornerà presto per una visita nei luoghi più colpiti, ha effettuato una ricognizione con il Presidente Francesco Acquaroli, subcommissario all'alluvione, assessori regionali e tecnici ed ha focalizzato anche gli obiettivi di più ampio respiro. Passeremo a scrivere i piani speciali previsti dal decreto in cui saranno inseriti i territori delle marche che sono stati oggetto degli eventi alluvionali. Ovviamente per fare questo metteremo in campo dei gruppi di lavoro in cui oltre alla struttura commissariale ovviamente saranno inserite la regione, la provincia e i comuni e soprattutto l'autorità di Bacino, quindi distrittuali di Bacino e stiamo facendo delle convenzioni con il mondo accademico, con le università. Dopo gli eventi alluvionali di maggio un totale di 160 comuni marchigiani aveva avanzato l'istanza di inserimento nell'ordinanza di protezione civile per il riconoscimento dello stato di emergenza. È chiaro che a questa richiesta bisogna dare una risposta definitiva. Ieri due delegazioni dei comuni, sia i comuni diciamo più della parte alta della nostra regione nella provincia di Pesarobino, che nella parte centrale, soprattutto il Fermano, sono stati ricevuti dall'assessore Aguzzi per fare un punto della situazione, perché le criticità soprattutto sulla viabilità e l'assetto di roce logico sono tante e vogliono avere una risposta su come devono affrontare queste criticità. Cambiamo argomento, veniamo ad una attesa inaugurazione, quella del ponte pedonale che servirà come collegamento tra il parcheggio gratuito dell'ospedale regionale di Torrette e il nosocomio, un'inaugurazione che abbiamo seguito con le nostre telecamere. Inaugurato questa mattina il sovrappasso pedonale di via Conca nei pressi dell'ospedale regionale di Torrette, il ponte servirà a collegare i 260 posti auto del parcheggio di via Metauro con il parcheggio dell'ospedale e quindi con l'ingresso del nosocomio, un'opera da 700 mila euro, di cui 500 mila, provenienti da un finanziamento regionale. I lavori del ponte, durati dieci mesi, sono terminati a fine marzo 2023, poi l'inizio del collaudo e delle operazioni di certificazione terminate lo scorso 7 luglio. L'attesa sognata da tanti cittadini e conetani che purtroppo si reclano su questa struttura ovviamente per una serie di servizi fondamentali per l'intimità di una famiglia, di una persona, di un qualsiasi utente che insomma si recca purtroppo in un luogo per le cure dei propri cari o per le proprie, quindi è un'attore di agevolazione, si amplia ovviamente l'offerta a punto di vista della sosta, in sicurezza. Era comunque una struttura che gli Anconetani aspettavano da tanti anni che oggi con l'inaugurazione vede sicuramente il suo completamento e la sua funzionalità. L'opera in struttura d'acciaio è composta da due torri di sostegno, da una passerella pedonale, da due rampe di accesso, inoltre è stato realizzato un ascensore adiacente alla torre Lato Ospedale. Al momento il ponte è pienamente fruibile con l'uso della scala, mentre per utilizzare l'ascensore occorrerà attendere il previsto parere dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, a raccontarlo, è l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, presente all'inaugurazione. Tempo massimo per l'autorizzazione, due mesi, poi il passaggio pedonale dell'ospedale regionale sarà veramente completo. Torniamo un attimo alla cronaca. Polizia e vigili che sgomberano la stazione di Civitanova. Vedete un'immagine, fuggi fuggi generale, ieri davanti alla stazione quando gli agenti della polizia insieme ai vigili urbani sono intervenuti a Civitanova a seguito di segnalazioni per la presenza di persone che dormivano a terra. Sono intervenute le forze dell'ordine, alla presenza anche del sindaco Ciarapica con l'assessore al decoro e alla sicurezza Giuseppe Cognini. Chiudiamo con la pagina degli appuntamenti. Grande attesa per il ritorno della nonni e nipoti a Falconara. E la campionessa paralimpica a Londra e Rio nel lancio del peso, assunta legnante la testimonial della decima edizione della nonni e nipoti. La passeggiata ludico-motoria organizzata dal 2011 dal gruppo Amici per lo Sport di Falconara. L'evento in programma venerdì 21 luglio accoglierà in città almeno mille visitatori. Nonni e nipoti sono due generazioni talvolta lontane ma che in realtà con un evento giunto alla decima edizione si incontrano. E noi infatti prenderemo proprio un bracciale con la bandiera italiana che daremo a nonno e nipoti insieme affinché tanto più si ascoltano queste due componenti che tu hai detto, queste due generazioni, tanto più si migliora l'attuale e futura generazione. Così come cerchiamo di far comprendere sempre di più di parlare mondo olimpico, cioè i normodotati con il mondo paralimpico di isabili che fanno sport affinché parlando fra di loro, confrontandosi, si possano sempre più abbattere le barriere architettoniche e culturali. Questo è lo zainetto dove all'interno i partecipanti dietro all'iscrizione di 5 euro a partire dalle 16 di venerdì 21 luglio potranno recuperare i buoni spesa, i sei buoni spesa da utilizzare all'interno dei supermercati Si Contè e Superstore di Falconara e di Collemarino e poi all'interno anche tanti altri gadget oltre all'acqua che naturalmente con questo caldo servirà e servirà molto. Noi vogliamo partecipare in modo attivo, concreto, sia per la città di Falconara e soprattutto per l'associazione Amici per lo Sport dove già collaboriamo da diversi anni. Il gruppo Si Contè è presente a Camerata Picene che vanta 120 punti vendita tra supermercati e superstore, prevalentemente tra Marche e Abruzzo, sarà main partner della nonni e nipoti. Nella sacca che sarà consegnata al momento dell'iscrizione, oltre ai buoni spese, all'acqua anche buoni gelato e pennarelli. Dalle 17 via all'animazione per bimbi e famiglie fino alle 21 quando il fatidico sparo sancirà all'inizio della mini maratona tra Piazza Mazzini, Via Trieste e Ritorno. In chiusura un concerto con il gruppo Le Rimmel, la tradizionale cucumerata sotto le stelle e la lotteria, per la quale lo stesso Si Contè ha messo a disposizione dei premi. È tutto per questa edizione marchigiana di ETG, vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa. Grazie e buon proseguimento.